Sì, sì, tenevo a precisare delle cose che sono fondamentali, i progetti, il nostro progetto, il progetto della mia candidatura a sindaco è totalmente opposto a quella della rete civica della Spinelli, ma questo lo è fin dall'inizio, noi faccio prima di tutto ne faremo la terza via, quindi andremo da soli né con la destra né con la sinistra, loro hanno dichiarato apertamente, e lo sono stati da quando sono nati alle regionali, di essere una lista civica di centrodestra, di avere rapporti con centrodestra, con la Lega e con tutti i partiti che la rappresentano, quindi è inevitabile che loro facciano la loro strada come noi, come Rinascita Civica e io come Erbetta Mario faccia la mia, con altre coalizioni, altre alleanze, questo è una cosa da specificare perché sembrava dei titoli che sono usciti in cui Erbetta ha bocciato da rete civica, rete civica non può bocciare nessuno perché rappresenta solo se stessa, anzi sta nascendo adesso e sicuramente non è una realtà con cui posso rapportare. Altra situazione che volevo precisare è il discorso del civico, io vorrei rispondere a Spinelli che il mio curriculum parla da civico, sono anni che sono civico, lo ero a parto civico, lo sono adesso all'interno di una città civica, non ho mai avuto una tessera di partito, al contrario della sua appartenenza politica in vari partiti della sua storia che l'ha portata poi a diventare sindaco, quindi sul nostro civismo non penso che nessuno possa mai dire qualcosa di diverso di quello che è, che poi io voglia fare e sicuramente sto lavorando un'alleanza centrista con vari partiti che siano anche l'espressione di chi non viene rappresentato in questo momento dei partiti di maggioranza o di minoranza, c'è la Lega e il PD, questo è senza dubbio, ma non vuol dire che la rinascita civica perde il suo essere civico, anzi noi come abbiamo sempre fatto e come ho fatto in Coceo Comunale, se ritengo un provvedimento giusto lo voto indipendentemente che provenga da destra o da sinistra, questo vuol dire essere civico, cioè fare il bene e cercare di fare il bene dei cittadini in sé. L'ultimissima considerazione, tutte queste, la rinascita civica poi, la rete civica, sappiamo che c'è già in Consiglio Comunale il patto civico, tutto questo non rischia di ingenerare un po' di confusione anche nell'elettore? Ma allora, noi non siamo oggi, noi nasciamo da due anni fa, vede, le liste, io rispito sempre dalle liste che nascono a ridosso delle campagne elettorali, la stessa Spirelli mi disse due anni fa, non perché presenti adesso la lista eccetera, perché il nostro è un progetto, è un progetto che va da dire da lontano e vuole andare lontano, non si limita a Rimini, ma abbiamo partecipato alle elezioni in solitaria a Sant'Arcangelo, abbiamo dato una mano alle elezioni europee, alle ultime nazionali e regionali, chi mi scusa, a Marcello ha fatto Italia, il discorso dell'essere del civico in sé è fondamentale, secondo me Rini ha bisogno di un sindaco civico, di un'espressione civica che in qualche modo vada fuori dalle ideologie partitiche, sicuramente ci sono civiche, come posso dire, che hanno dimostrato di essere civiche che sono strumentali ai partiti politici di maggioranza e di minoranza.